Sean Roden è accusato di quello che sappiamo, Jeremy Buendia lo stesso è nella merda, Nathan D. Asha ha appena ammesso di aver spacciato asteroidi e per non farci mancare niente anche Larry Williams o Larry Wills come lo conoscono in più è nella merda fino al collo, stando a quanto sostiene la sua ex fianzata Chilasa King che è stata insieme con Larry per circa 4-5 anni in base a quello che ha raccontato in un video YouTube poi io trovo discutibile mettere in piazza i propri problemi personali, non capisco perché fare queste cose però questo è il mio punto di vista, penso sia anche condivisibile, per quanto poi possa aver ragione perché la cara Chilasa King che troviamo anche su Instagram come chiunque con il nickname KingC ha fatto un video su YouTube dove praticamente racconta tutti gli abusi subiti in questi anni da parte di Larry e non nasconde dettagli di ogni tipo, ad esempio che l'ha traditta sin dall'inizio con donne ma non solo con donne, a quanto pare anche con uomini ha subito abusi fisici, psicologici, emotivi e narcisisti queste sono le cose che ha detto lei, non me le sto inventando, guardatevi il video e poi ovviamente per non farci mancare niente l'ha anche presa a colpi e nel video fa vedere i messaggi che si sono scambiati nei quali Chilasa ricorda a Larry quanto aveva appena fatto e dice anche forse il tren che te l'ha fatto fare sicuramente il tren ha peggiorato le cose perché sappiamo che fa andare un po' in escandescenza e poi Larry che ha messaggi chilometrici risponde solo ma dai quando ci vediamo iniziamo la terapia insieme, cosa del genere e poi Chilasa fa anche sentire degli audio registrati mentre lei cerca di difendersi da Larry in uno lei ha a quanto pare un coltello per difendersi e Larry sta chiamando la polizia e l'accusa addirittura di violenze mentre è al telefono con i poliziotti io adesso non voglio prendere le parti di nessuno però sinceramente non so se una persona potrebbe arrivare a inventarsi cose del genere però c'è da dire che succede di tutto e di più io trovo discutibile il fatto che vengano messi su YouTube questi fatti della vita privata delle persone però non vedo perché una persona dovrebbe inventarsi cose del genere quindi adesso penso che Larry sia un bel po' nella merda ma sappiamo anche che lui ha avuto un'infanzia molto difficile questo non lo dico per giustificare le sue azioni ma perché in genere chi viene da un'infanzia travagliata che ha problemi familiari con trasferimenti da un posto all'altro se vi ricordate avevo fatto un video anche sulla sua missione di aver preso steroidi dove parlava anche un po' della sua vita privata della sua infanzia che vi linko a fine video quindi penso che Larry sia in un bel guaio penso anche più di Sean Roden perché per Sean Roden penso che sia innocente ho questo sentimento invece per Larry non lo so un po' di meno i fatti discutibili sono che questa ragazza, Cilasa ha fatto il video, l'ha messo su YouTube a quanto pare poco dopo che Larry aveva messo una foto con una sua nuova fiamma su Instagram questo è quello che mi sembra di aver capito ma se poi guardate sul suo Instagram c'è una foto di lui nel deserto non so dove con una tipa mentre le tiene il culo quindi cosa vuol dire? che Cilasa ha fatto il video per gelosia? boh, non credo e poi ovviamente anche l'attuale compagna di Larry ha fatto un video per difendere il suo fidanzato però a me tutto questo processo mediatico non è che piaccia molto però per dover di cronaca ve lo comunico poi non so quando sapremo cosa è la verità l'unica cosa che sappiamo è che Larry è un mostro è una bestia è fortissimo è uno che fa il powerlifter il bodybuilder a livello amatoriale ma comunque un bodybuilder discreto non buonissimo perché non ha delle belle gambe secondo me però comunque a livello di NPC ha fatto il bodybuilder adesso si stava allenando anche per fare lo strongman e mi sa che si è anche mezzo strappato un bicipite anzi forse proprio strappato c'è un video su Instagram dove solleva delle Atlas Stone le sfede di atlante e a quanto pare si è strappato un bicipite lì quindi comunque è un atleta se vogliamo chiamare l'atleta a tutto a tondo a meno per quanto riguarda il bodybuilding il powerlifting e lo strongman che sono le discipline più vicine tra di loro rispetto a qualsiasi altro sport quindi è uno che ha superato i limiti della propria disciplina preferita il powerlifting per approcciarsi anche ad altre cose quindi su Larry come atleta come performer come vogliamo chiamarlo niente a discutere però chiaramente quando entrano in ballo altre questioni di vita privata bisogna andarci come ho detto in un altro video con le pinze e anche con i guanti perché questo processo mediatico credo che non aiuti nessuno né lui né la sua ex fidanzata che a quanto pare Larry tartassava di messaggi lei li fa vedere nel video per cercare di riaverla e poi non c'è riuscito quindi adesso sta con un'altra quindi non condivido questo mettere in mostra le proprie disgrazie però devo dire che Larry non esce benissimo perché comunque ci sono degli audio abbastanza drammatici urla a quanto pare le dice che l'ha presa a colpi a pugno chiuso sulle gambe in faccia questo non ci sono video però questo è quello che dice lei però vedremo cosa succederà poi se ce la faccio appena scopro qualcosa su Nathan di Asha faccio un video anche su di lui perché lui è uno che ha la bocca larga stava sempre parlando male di Luke Sandow stava parlando male di Eddie Chupan stava sempre parlando male di qualcuno quindi alla fine torna tutto indietro come ho detto nel precedente video il karma non perdona buona